Signori, io da tifoso del Napoli ritengo che il Napoli è una delle squadre più avvantaggiate dagli arbitri. Cioè, secondo me, il Napoli molte volte è stato favorito da decisioni arbitrali discutibili. Ma anche quest'anno, quest'anno basta vedere il rigore fantasma su Mertens, a Firenze, tra arbitro e VAR avrebbero avuto il dovere di evitare che avvenisse. Ma il Napoli è stato favorito anche per esempio in Coppa. Ecco, secondo me c'era quel rigore però su Calleone, però Calleone comunque si stava buttando. Quindi, già, siamo stati un po' fortunati anche in quell'occasione. L'arbitro non è stato molto, molto rigido. Comunque, lasciamo stare. Il Napoli per me rimane, perché io lo so, sono una persona che cerca di essere obiettiva nel tifo, una squadra un po' più favorita, ma è anche illogico. Perché? Perché siamo alla seconda squadra, ma quest'anno sta andando un co... Però negli ultimi anni, oramai, siamo stati l'anti-Juve. E quindi le squadre più forti hanno quest'occhio di riguardo da parte degli arbitri. Ma lasciamo stare. Nel caso di ieri, ovviamente, il Napoli è stato molto, invece, danneggiato. Quindi, ci può stare, ci può stare che uno faccia un errore, come l'hanno fatto a fuori del Napoli. Però, quello che io non riesco a capire è come è possibile non vedere la grande... Ma anche dopo, da parte, per esempio, dei tifosi che dicono il fallo di Llorente. Ma quale fallo? Signori, io un rigore così netto non l'ho mai visto. Sapete perché? Perché, anzi, io addirittura si dovrebbero punire, secondo me, una nuova regola. Sì, la propongo io. Doppio rigore per queste situazioni. Perché? Perché il rigorista, il rigore in genere, viene involontariamente. Cioè, qualsiasi difensore cerca, normalmente, di evitare il gol, di fermare l'avversario, allungando, per esempio, il piede, sperando di poter, con la punta, toccare il pallone prima che la tocca l'attaccante. Cosa succede? In tutti i casi di rigore, purtroppo, magari in quel caso, arriva prima l'attaccante e quindi automaticamente il giocatore inciampa nel, diciamo così, nel piede che non può essere più ritirato a quel punto del difensore. Quindi è un rigore. Lui si prende il rischio difensore, ma la sua intenzione è quella di prendere il pallone. Poi, purtroppo, il rigore è il rigore. In questo caso no, perché se vedete, vedete il cross dalla sinistra. Il difensore, che stava già un metro lontano dagli Orente, a un certo punto guarda la parabola che sale, si rende conto che non la prenderebbe mai, che sta fuori posizione, che non la può prendere. Cosa fa? La parabola non arriva neanche a metà del suo percorso. Vedrete l'Orente, fermo, perché guarda caso il cross è praticamente perfetto per la sua testa. Sta aspettando solo il momento per poter fare il salto definitivo e incornare. Nel fare questo, vedete la preparazione di l'Orente, il quale si incomincia a impostare, ovviamente, chiunque in aria cerca di affermare la sua posizione, di consolidarla, alzando in questo caso anche il gomito, ma è un'azione di preparazione, ma il giocatore non c'è. Cioè io non è che alzo il gomito e do una gomitata. Quando lui alza il gomito il giocatore non c'è. Se andate a vedere, fate un fotogramma per fotogramma e vedrete la dinamica, lui praticamente già alzato il gomito, ma per il difensore invece, arrivata a metà della parabola, capisce che non c'è niente da fare, non lo potrà mai prendere, invece di guardare quindi come dovrebbe il pallone, cercando in un disperato salto di almeno sfiorare in qualche maniera di evitare, cosa fa? Incomincia a girarsi. Voi vedrete come quel giocatore, i due giocatori che guardano il pallone, uno dei due, cioè il difensore, incomincia a ruotare su se stesso. Vedrete che si, vedete stagliarsi il numero della maglia del giocatore, cioè praticamente a un certo punto la palla sta ancora scendendo e vedrete l'Orente di faccia ovviamente aspettando il pallone e vedrete uno che guarda l'Orente e non solo di faccia l'Orente, addirittura siccome stava proprio lontano per far capire che non è che lui ha cercato di intervenire con un gomito eccetera, lui addirittura sembra quasi tuffarsi, se vedete sei in una posizione pendente insomma e con le mani protendersi verso l'Orente. Che succede? l'Orente che già stava in fase comunque di base, lui stava in fase protettiva contro gli attacchi, si è trovato a questo qui che chiaramente gli fa sbattere contro il gomito, ovviamente questo ulteriormente dimostra che lui non stava saltando per prendere il pallone, non guardava il pallone ma stava semplicemente cercando, anzi si era abbassato proprio perché voleva spingere, quindi la testa va sotto, urta e va sotto al gomito di l'Orente che tra l'altro è più alto e più, cioè lui si è visto disperato sto difensore, basta vedere questo quindi lui si disinteressa totalmente del pallone. Da quando il cross sta neanche a metà del suo percorso ha dimenticato, cioè io non lo posso prendere, allora buttiamo, ostacoliamo l'Orente. Quindi in questo momento inizia concettualmente il rigore, quindi ecco addirittura è proprio un rigore di concetto, mentre negli altri casi, la gran parte dei casi, tu non vuoi fare rigore, non vuoi buttare, non vuoi che si crei la situazione, quindi allunghi il pallone disperato però non... purtroppo l'attaccante ti anticipi a quel punto prendi il rischio evidentemente, è l'ultimo rischio, ma è un rischio che prendi, ma non che ci vai per buttarlo per terra, invece qua tu ti giri, guarda il pallone non ti interessa più, quindi sei dedicato al giocatore, ti butti verso il giocatore, quando il pallone sarà a mezza altezza tu vedrai che questa persona che stava di fronte al pallone si gira verso il verso l'Orente e lo spinge e li si butta addosso come in un rugby, come... cioè sembra quasi che voglia spingere un carro, Dio santo, non sta guardando il pallone, quindi cosa vuol fare? Vuole solamente buttare, non si disinteressa il pallone e vuole spingere Calleone, quindi il rigore è Calleone, come si chiama? Agliorente, quindi il rigore è nettissimo, non viene meno questo discorso della cosa, è una posizione che lui ha, se gli urta contro è lui che con la testa va a infilarsi praticamente sotto perché lui invece di saltare va giù, e questo signore questo è il rigore, questo è un rigore che vale due gol, dovrebbero inventare una nuova regola, perché dice poverini quelli l'hanno subito un rigore, però non lo volevano fare, hanno cercato, quindi utilizzando la logica del gioco, di arrivare prima dell'avversario, hanno cercato di anticipare l'attaccante, l'attaccante è stato più bravo e ti ha anticipato e quindi tu non sei stato fregato, hai buttato, hai fatto diciamo lo sgambetto all'attaccante, ma non lo volevi fare, volevi giocarla quella palla, ieri invece il giocatore proprio non ce la pensate proprio, dice io, mo mi giro, sai che faccio? Lo butto a questo qua, quindi è volontario, questo è un ostacolo volontario all'attaccante, quindi questa è una boutade diciamo, per me io darei doppio rigore contro un rigore perché c'è proprio una volontà di farlo, quindi sinceramente è un rigore stranetto, questo cosa significa? Ecco, uno sfogo solo perché la gente proprio non riflette sulle cose, anche i giornali, alcuni sul momento hanno detto a gomitare, ma quale gomitata? Quale gomitata? Su lui si alza, il giocatore, quando questo ha alzato il gomito, sta a un metro, se tu ti vai a buttare cercando con le mani di spingerlo, nel momento in cui lo spinge questo qua chiaramente va a buttare contro questo gomito che era alto, insomma, comunque il risultato è tutto questo, la cosa triste è che nonostante ci sia un arbitro, nonostante ci siano altri arbitri, che guardano, cioè esiste un regolamento per cui non, alla fine non c'è stata la consultazione, tutti quegli altri sanno che rigore, oggi lo sa anche Giacomelli, magari Giacomelli ha visto l'azione all'ultimo momento, ecco non è che voglio dire, è rimasto un attimo perplesso, però non, quelli del VAR l'hanno visto che era rigore, però dice qua se non c'è proprio la cosa, il guaio è stato soprattutto che ha segnato quello subito, perché se fosse andata la palla in fallo laterale o qualcosa, le proteste ci sarebbero state, l'arbitro comunque sotto le proteste, quell'altro diceva vediamo bene, vediamo bene, alla fine andava a vedere, invece tu come facevi? Dopo un gol dell'Atalanta ad andare, quasi usciseva il putiferio ancora peggiore, perché il giorno dopo dice scusate voi come fate a garantirmi che quello è il rigore e mi avete elevato, cioè sembra, era grosso, capito? Quindi la sfortuna del Napoli è che chi l'ha segnato subito, subito, ma dall'altro canto in quel segnare subito c'è anche un po' il disorientamento di tutti i giocatori che si sentivano un po' disorientati, quindi c'è stata questa cosa, fermo restando, attenzione, che noi qua stiamo parlando dell'arbitro eccetera, però insomma la difesa del Napoli non poteva, comunque aveva il dovere di stare attento e di non fare quello, la difesa del Napoli purtroppo le pecche ce l'ha ed è anche per quello che comunque ieri alla fine abbiamo pareggiato, vedi il primo gol, però io questo voglio dire, il Napoli, questo non vengono meno dei difetti, ieri ha fatto una bella partita ma i difetti difensivi ce l'avevo, il rigore era netto, per me questo è un rigore che va alle due volte, se era un omicidio, se era un delitto gli indizi sarebbero stati così evidenti che nessun tribunale non poteva condannarti, poteva non condannarti, noi che diciamo sì ma non si vede, uno che al momento del cross dopo poco incomincia a girarsi, non guarda più il pallone, in quel momento concettualmente inizia il rigore, quella persona ha deciso di buttare, di dedicarsi al giocatore, all'attaccante e non dedicarsi al pallone, se tu non ti dedichi al pallone e ti dedichi, non guardi il pallone e guardi l'attaccante e per buttare vuol dire che lo scopo tuo non è quello di giocare al pallone, ma di buttare l'attaccante, poi se in questa bovina ci sta un braccio alzato ma la colpa è tu che tu sei andato, tu non ci dovevi stare con la testa all'assunto, non ci dovevi stare, perché si presume che tu guardavi dall'altra parte e cercavi eventualmente di prendere e non l'hai presa, invece tu che hai fatto, si è buttato come un toro inferocito verso Giorente, nell'ultimo disperato tentativo di impedirli di prendere, perché il colo cross gli arrivava proprio in destra, lui gli faceva paio e era colo sicuro, quindi lui si rende conto di questa cosa, quindi è un rigore sacrosanto, chiunque dica che non lo è, e tutti gli arbitri, nessuno ti dirà che non c'è, sul momento, ma stai sicuro che questo è un rigore sacrosanto, è un rigore lungo, due secondi, non un attimo, è lungo dal momento in cui lui si è reso conto che il cross non l'avrebbe mai preso, ha deciso di buttare via Lorente, ha deciso di dedicarsi a Lorente, il pallone per due secondi non l'ha guardato proprio, questo è un rigore sacrosanto, basta.